Con la firma di Andrea Palazzi il Pescara ha portato a tre il numero degli acquisti in vista della prossima stagione. La mezzala, arrivata in Abruzzo dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, si unisce al centrocampista Mattia Proietti, proveniente dalla Bassano, e l'esterno d'attacco Leonardo Mancuso, dalla San Benedettese. Su Palazzi, reduce da una brillante stagione a Vercelli, con tanto di salvezza centrata alle dipendenze del mister Moreno Longo, in tanti avevano messo gli occhi, ma la prospettiva di essere allenato da Zdenek Zeman ha convinto il giocatore a scegliere Pescara. Palazzi, prima di firmare, ha prolungato il suo contratto con l'Inter fino al 2021. I primi giorni della prossima settimana potrebbero essere decisivi per la firma del centravanti Simone Andrea Gans. Con la Juventus il presidente Sebastiani sembra aver trovato la quadra per l'acquisizione al titolo definitivo del cartellino per una cifra che supera il milione e mezzo di euro, pagabile in tre annualità. Uno sforzo economico importante per l'uomo scelto da Zeman per essere la principale bocca da fuoco del suo tridente. Se le attenzioni dei tifosi si concentrano soprattutto sulle entrate, quelle della società vertono tanto anche sul fronte delle uscite e in tale ottica questi sono giorni torridi e non solo in senso meteorologico. Detto ieri delle piste estere per Gaston Brugman, su Francesco Zampano è piombato il Chievo. C'è stato un contatto tra i DS Leone e Romairone. Per il Delfino il prezzo è 2 milioni di euro e ci sono margini per trattare. Cristiano Birachi potrebbe finire al Cagliari che sta per perdere il laterale sinistro Murru per cui si è scatenato un'asta tra Lazio e Sampdoria. Il Pescara resta sempre in attesa dell'affondo del Benevento per il capitano Lenian Memushai. Sempre gli stregoni hanno smesso di seguire il portiere Vincenzo Fiorillo avendo virato decisamente sull'ex lancianese Sepe. Intanto ieri pomeriggio la società biancazzurra ha smentito voci circa un riassetto dirigenziale ribadendo piena e totale fiducia verso il direttore generale del settore giovanile Giuseppe Geria che ha iniziato il suo mandato l'essere scorsa e che potrà proseguire il suo lavoro. A breve anche l'annuncio ufficiale dell'incarico a Massimo Epifani che ieri con una nota ha salutato il San Nicolò dove ha lavorato nelle ultime quattro stagioni ed è prossimo a diventare il neo allenatore della primavera del Pescara succedendo a Davide Ruscitti. Suo vice sarà Emanuele Pesoli.